Una marcia pacifica dal casello autostradale Avellino Est fino al ponte dell'area PIP di Altavilla Erpina in auto, in bici, con i trattori a piedi o con qualunque altro mezzo, l'obiettivo è sfilare lungo i territori caratterizzati dalla produzione vinicola per arrivare a ribadire il no alla realizzazione dell'impianto biodigestore di Chianche. Si alza il livello della protesta dopo il respingimento del ricorso sull'opera da parte del Tar e la conferma da parte di Regione e Comune di Chianche e di progetti ormai cantierabili. Il comitato no al biodigestore sia al greco di Tufo dà appuntamento alle 8 e 30 del 15 settembre. Il corteo attraverserà Prato la Serra, Tufo, l'arrivo ad Altavilla. Una manifestazione chiaramente non violenta, sottolineano i promotori, che vedrà a lungo il tragitto l'utilizzo di altoparlanti con cui informare la popolazione dei motivi della protesta e la distribuzione di materiale informativo. Il corteo si concluderà con una serie di interventi dei rappresentanti dei comuni, degli enti e delle associazioni che hanno promosso l'iniziativa, il comitato no biodigestore e l'associazione movimenti locali.